Crocevia playoff, quello tra Aurora, Cerro, Boldese e Besnatese, la squadra di Crucitti vuole provare a completare la clamorosa rimonta sfidando proprio quella di Rasini, quinta forza del campionato, pubblico delle grandi occasioni a Cerro Maggiore, subito chance per l'Aurora che approfitta di una leggerezza della difesa della Besnatese, ma il tiro, col portiere fuori dai pali, non inquadra lo specchio della porta. Ancora Aurora, pericolosa poco dopo, dopo un disimpegno errato della Besnatese, Breck da parte di Castelnuovo che cerca, guarda in area di rigore, chiude in corner però la difesa ospite che si salva, l'Aurora parte col piglio giusto, ma anche la Besnatese passata alla paura si fa vedere in attacco, apertura sulla sinistra per Leontini che controlla bene, ma spara alto di un nulla sopra la porta, difesa da Pasiani da un corner seguente, cross dalla destra da parte di Comani, ancora Leontini pericoloso, col numero 10 che prova la girata al volo, bella l'idea, ma il pallone finisce alto, torna a farsi vedere l'Aurora Boldese lancio di Eboa per Tartaglione, ma il numero 7 viene pizzicato in offside con la bandierina dell'assistente che ferma l'azione pericolosa della squadra di casa, azioni da una parte dall'altra, poco dopo occasionissima Aurora, rinvio di Pasiani, bellissimo il controllo di Tartaglione che va via al suo diretto avversario, ma sul cross, guarda, manda a lato di un nulla sprecando un'ottima chance, gol sbagliato, gol subito, la Besnatese si rende pericolosa in ripartenza, Marinuzzi apre sulla sinistra per Leontini, controllo e tiro al volo parato da Dell'Aera che però di mestiere fa il terzino e l'arbitro indica il calcio di rigore, dagli 11 metri si presenta Luca Comani, pallone da una parte, portiere dall'altra e vantaggio Besnatese con i tifosi di Fede Biancazzurra che esultano, con le immagini nella ripresa subito punizione di Castelnuovo parata in due tempi da Lupu pur con qualche grattacapo, ma l'Aurora vuole fortemente il pareggio, palla dentro dalla destra cercando Dell'Aera, respinge coi pugni Lupu che allontana, poi il pallone viene tenuto vivo da Eboa che serve De Rosa, tiro a giro del fantasista che non inquadra lo specchio, prova a rendersi pericolosa l'Aurora anche coi piazzati, cross dalla destra per il colpo di testa di guarda, più comoda la parata di Lupu, Aurora tutto in attacco per cercare il pari ma al tempo stesso sbilanciato in difesa, Marinuzzi imbastisce il contropiede e apre per caccia, il consiglio dalla tribuna è unanime, puntare al diretto avversario, il numero 9 esegue col diagonale poi che non dà scampo a Pasiani, 0-2 al minuto 26 della ripresa è partita più che mai indirizzata dalla Besnatese ma l'Aurora è avversario duro a morire e riapre la partita sette minuti dopo con Tartaglione che sfrutta al meglio l'assist di De Rosa segnando così il gol del 2-1, manca di fatto un quarto d'ora compreso il recupero alla fine, l'Aurora prova il tutto per tutto, palla morbida da parte di Lallowy per la girata ancora una volta di Tartaglione alta di un nulla, mentre poco dopo ancora il numero 7 dell'Aurora entra in contatto con Asprella appena dentro l'area di rigore ma il direttore di gara da buona posizione lascia proseguire, ultimi palloni di fatto buttati dentro da parte dei padroni di casa ma la Besnatese resiste al forcing dell'Aurora e al triplice fischio esulta prendendosi di fatto i playoff e vanificando la rimonta dell'Uboldese